grazie non prende perchè? ohhh eccoci qua di qualcosa e adesso questi sono i nostri auguri di natale agli aficionados bene no hai visto che bello che è così al buio stiamo riprendendo al buio speriamo che si veda si vede si accendiamo questa dietro accendiamo quella dietro dai quella della capa si vede meglio così ci si vede o l'ombra spostiamo e accendiamo la luce facciamo i seri dai guarda cosa ti faccio fare incolpevole di tutto questo sono meglio oh quanto dura sto a fare aiuto aiuto metto niente mi prometto qui Ale si che non brucia niente tanto non brucia niente bene Ale un altro anno è passato ci siamo divertiti quello sicuramente quanti mesi è che facciamo il video si è per voi ah ormai è quasi un anno mi sa che mi veniva iniziato da quando torno dalla da quando sono tornato dalla Svizzera aprile fa un anno guardiamo lì come state gli auguri di Natalia non fate i matti eh no non potrebbero fare i matti fate i seri una buona fine un buon inizio noi invece lavorare con i matti è giusto c'è già pieno questo è il silvestro ancora no però ancora no l'ultimo sempre questo piatto è sempre c'ha quattro locale a raggiungere bene caro eh gli facciamo così gli abbiamo fatti assieme è più di così cosa non so io non facciamo più niente ciao ciao con la manina ci vediamo al prossimo video al prossimo video in Scema che speriamo al più presto ti manderò i saluti da madonna di campione eh io la gradara eh la lupi ce ne è un po' ci sono gli orci la però ci sono gli orci no la ci sono davvero la ci sono davvero vabbè ciao affissionato stateci bene ciao Ale ciao caro vai di là che non si vede eccola ciao